E veniamo al primo gol. C'è un bel rimpallo, Battistini ne approfitta e infila cacciatori. Passano sei minuti ed è raddoppio, cross in area e guardate Blissett com'è rapido, riesce a ingannare tutti e a portare ancora un gol alla sua squadra. Si dovrebbe vedere la Lazio e invece si continua a vedere il Milan ed è il terzo gol, questa volta ancora di Battistini. Nella ripresa, ma prima vediamo un palo di Manfredonia che conclude le immagini del primo tempo, nella ripresa gran botta di Giordano, Piotti non trattiene, interviene Manfredonia molto attivo ed è il 3 a 1. Passano pochi istanti, Verza va sul fondo, mette al centro, Carotti liberissimo, porta a 4 le reti per il Milan. È tutto a voi Roma.